Ci troviamo oggi al tredicesimo piano di questo palazzo S32 in centro di Milano con me Luca Argentero. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Bellissima iniziativa questa. Grazie. Oggi in realtà siamo ospiti di Kia ma siamo anche ospiti di un caffè. Cosa è? Un caffè è un'idea prima di tutto. L'idea è che donare, quindi il concetto di solidarietà in generale, possa diventare una buona abitudine quotidiana come bere un caffè o come offrire un caffè a un amico. Quante volte nel corso della giornata dici vieni e ti offre un caffè. E uno di quei caffè, almeno uno al giorno, se è offerto a qualcuno che ne ha bisogno può essere rivoluzionario. Il concetto del caffè sospeso alla napoletana? Esatto. È divertente. Sì, abbiamo preso spunto da quell'idea, da quella bellissima tradizione partenopea. Poi in realtà l'abbiamo resa, siamo orgogliosamente digitali, estremamente contemporanei. I nostri sistemi di donazione sono completamente digitali che ci permette di azzerare i costi di transazione. Il nostro obiettivo è, visto che siamo un veicolo per piccole associazioni o piccole onus che hanno bisogno sia di raccogliere denarmi, soprattutto di farsi conoscere che l'aiuto che riusciamo a raccogliere, come in questo caso l'aiuto di Kia, arrivi realmente a destinazione e all'oggetto della causa che sosteniamo. Come facciamo a contribuire? Cioè se io voglio contribuire a questa cosa cosa devo fare? Allora, in questo caso la collaborazione è Kia che... È esplicita in questo caso, ma se io voglio contribuire con un caffè cosa devo fare? Noi ogni settimana, quindi una volta a settimana, ogni lunedì, presentiamo un piccolo progetto di solidarietà, una piccola associazione. Sul nostro sito è tutto raccontato molto bene. Uncaffe.org Uncaffe.org Trovate sia il racconto di quello che abbiamo fatto fino a oggi, il racconto di quello che faremo questa settimana e N modi per contribuire, dai strumenti di pagamento digitale, quindi Satispay, Paypal. Ok, quindi si può contribuire con molto, ma anche con poco. Sì, guarda, c'è una... la filosofia nasce rispetto all'offrire il singolo caffè. Noi abbiamo aggiunto la colazione perché simbolicamente i 5 euro della colazione esatto ci stanno. In realtà quest'anno abbiamo, visto che ogni settimana presentiamo un progetto, abbiamo inserito uno strumento nuovo che è la Family Card, cioè entrare a far parte della famiglia di un caffè. Visto che presentiamo un progetto a settimana e l'anno è composto di 52 settimane, è anche l'occasione di poter offrire 52 caffè in una botta sola, così hai tutto l'anno coperto. La card del bar, no, quella che fate per... è uguale. Bene, bellissima iniziativa. Grazie, a te. E niente, ci vediamo in questo. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.